Buongiorno, ben ritrovati a prima pagina. Andiamo allora subito a vedere le testate per quanto riguarda i quotidiani regionali in questo venerdì 17 di novembre. Il pericolo corre sulle strade. Il bilancio 2022 ACI-STAT titola il Corriere dell'Umbria. 2.252 incidenti in Umbria, 49 morti e 3.076 feriti. Distrazione e velocità le cause principali. L'aeronautica premia gli studenti. Anzi quasi 160 studenti hanno partecipato al corso dell'aeronautica. Giovani piloti crescono qui in foto sulle scalette di Palazzo dei Priori a Perugia. Per quanto riguarda ancora Terni, nasconde un chilo di coca in camera della madre. I carabinieri arrestano un 36enne. A Gualdo Cattane un carico di tordi in auto. Cacciatore finisce nei guai. È stato fermato dalla forestale. Poi l'intervista all'attore Paolo Giovannucci, il teatro è luogo sacro, dichiara appunto l'attore cresciuto a Terni. Mentre si torna a parlare del gatto di Nino Frassica, un gatto dalla coda velenosa indagata la moglie di Frassica. La vicenda del felino sparito spunta anche l'accusa di stalking. Veniamo così alla Nazione, il grande fratello. Di cosa si parla? Della sorveglianza che aumenta a Perugia. Siamo super sorvegliati. Ecco altre 23 telecamere, scrive la Nazione, che fanno arrivare a quota 417 gli impianti dedicati alla sicurezza. I prossimi 5 entro 3 mesi. Qui proprio l'installazione di una telecamera di sicurezza. Minacciola Meloni, processatelo. Accusato di vilipendio al Premier, un perugino 45enne. Postava offese anche mentre gli perquisivano casa. Sotto la testata si spaccia per genero di Fidel Castro e truffo un padre disperato. Un ex allenatore Umbro finisce così alla sbarra. C'è lo sciopero, ecco gli orari di treni e bus, oggi l'astenzione generale. Intanto, maltrattamenti e business illegale. Dentro il furgone quasi 400 tordi denunciato per ricettazione. Sempre da Spoleto, gatto sparito, indagata la moglie di Frassica, fascicolo della procura aperto per stalking. L'insospettabile invece ha in camera un chilo di cocaina. A Terner è stato un 36enne incensurato, nascondeva la droga nella casa della madre dove aveva il domicilio. Veniamo anche al messaggero. In primo piano la benzina. Perugia più cara di Terni. Carburanti, prezzi più stabili. A ottobre calo mensile dello 0,6%. Previsti altri ribassi rispetto a due anni fa. Pieno e più caro di 70 euro. Listini legati alle crisi internazionali. La fotonotizia riguarda invece la sosta selvaggia. Caos bus. Perugia, gli autisti e il sindaco. Ogni giorno mille rischi. Spoleto, il gatto Iro, indagate, moglie e figlia di Frassica. Mentre da Perugia, salto alle boutique di Corso Vannucci. Ride nei negozi in centro, preso un balordo, altri due in un video. La banda degli incensurati a Terni. La coca a casa della mamma. Dopo il cuoco stellato arriva un altro arresto per droga. Per quanto riguarda la politica e la manovra, le parole di Tesei. Niente aumento delle tasse regionali. Mentre da Terni, il Terni Film Festival, due Manfredi in concorso sono le nipoti di Nino, Margherita e Matilde Manfredi. In scena in un cortometraggio che sarà presentato oggi al Terni Film Festival, le nipoti del grande Nino Manfredi. Per quanto riguarda lo sport, sotto la testata, vedete sul messaggero Ternana Calcio per Breda la sfida e anche contro il passato. Per il nuovo tecnico da sfatare anche i precedenti che non sono a lui favorevoli. Da Toscano a Lucarelli la doppia panchina si trasforma di fatti spesso in un flop. Perugia Calcio, a Pineto gioca domani la formazione bianco-rossa solo 200 posti per gli ospiti. La brigata non parte, intanto il Cesena vince e va in testa. Nella gara di ieri sera sul campo della Virtus Entel vittoria per la formazione bianco-neri. Il gol di Donnarumma che consente al Cesena di raggiungere la quota 30. La Torres in vetta alla classifica del girone B di Serie C, mentre nell'altra gara da segnalare la sconfitta del Sestri Levante contro il Rimini. Gol nel finale segnato dall'Umbri Ubaldi, Sestri Levante che sarà il prossimo avversario del Gubbio. Giusto per completezza di informazioni. Veniamo agli approfondimenti dunque, lasciando per ora da parte lo sport all'interno dei quotidiani. Ripartendo dalle notizie in primo piano, sulle strade meno morti ma ci sono più incidenti. Questo dal report di ACI per quanto riguarda velocità e disattenzione, le cause principali dei sinistri. Oltre 3.000 i feriti nel corso del 2022 aumentano le vittime anche tra i pedoni. Dalle 14 alle 17 la fascia oraria più critica, la metà dei sinistri tra maggio e settembre. Qui anche un grafico che evidenzia nel dettaglio gli incidenti stradali in Umbri nel 2022, il totale, quelli in provincia di Perugia, di Terni, le vittime degli incidenti. Il 70% sono i conducenti, gli orari più critici e poi anche il dato legato ai morti, 49, meno 8% rispetto al 2021. I feriti però 3.076, più 15% rispetto al 2021, 8 al giorno di media. Nonostante gli sforzi per la sicurezza, numeri ancora alti, dichiara il prefetto Gradone. e coinvolgere sempre di più i giovani. Rimarchi invece il presidente di AC Perugia, Campi. Andiamo anche alla situazione legata ai carburanti. Prezzi più stabili, scrive sempre il messaggero Perugia, e più cara di Terni. A ottobre calo dello 0,6%, ribassi anche nelle prossime settimane. In due anni pieno di 70 euro, consumi in calo, dichiara però Guglielmi, presidente regionale FIGISC, Confcommercio, per quanto riguarda appunto la questione carburanti. Gestire l'auto per alcune famiglie ormai non è più sostenibile, però rimarca Falcinelli di Kodakons. Saliti i prezzi nei distributori bianchi, il peso delle tensioni internazionali. Scrive sempre il messaggero con tanto di grafico che evidenzia gli aumenti nell'ultimo anno, da settembre 2022 al 2023, al settembre odierno. Exporto, l'olio vale 119 milioni di fatturato in sei mesi. E poi dalla regione, la governatrice Tesei dichiara le tasse non si toccano. Cresciuti, PIL e investimenti per quanto riguarda la manovra e il pacchetto che la giunta regionale si appresta a varare con il documento di economia e finanzi, il cofidetto DEFRE, che per il quarto anno consecutivo non prevederà ritocchi a imposte e tasse regionali. Sulla Nazione, invece, minaccia Giorgia Meloni. Chiesti il processo per un 45enne perugino. L'uomo accusato di vilipende avrebbe continuato a offendere la Presidente del Consiglio anche nel corso della perquisizione e utilizzava i social. Intanto, esplosione mortale di Gubbio. Si torna in aula il 23 novembre. La parola passerà ai consulenti. C'è stato un rinvio a causa di un impedimento tecnico. Nuova udienza il 23 novembre. Giovedì 23 novembre ci saranno altri testimoni con soprattutto i consulenti tecnici che parleranno per quanto accaduto il 7 maggio, quel tragico 7 maggio 2021. Il grande fratello ci guarda, scrive sempre la Nazione. Ecco altre 23 telecamere. Siamo super sorvegliati. Perugia arriva a quota 417 il numero di impianti dedicati alla sicurezza. I prossimi 5 saranno installati entro tre mesi a Fontivegge e a Madonna Alta. E poi, zopro filattico, petizione contro il laboratorio pericoloso, si legge sulla Nazione. A presentarlo il comitato promotore, secondo cui si tratta di un laboratorio di livello 3 dove vengono manipolati microrganismi di elevata pericolosità per gli animali e l'uomo. Raccolte 1.300 firme intanto per mantenere la piazza a Ponte San Giovanni. Resti il parcheggio. Intanto oggi è il giorno dello sciopero generale. Occhio agli orari dei bus e dei treni. Fasce garantite sia per Uggia Caterni. Informarsi prima di mettersi in viaggio. Sul Corriere dell'Umbria, da Foligno, sull'antico mulino, ora brillo una stella. Il ristorante 1 è di Capodacqua e quello 3 premiati da Michelin, devo tanto alle mie nonne, ricorda lo chef, il 36enne Giulio Gigli. E poi ancora, cibi artificiali. C'è lo stop, presenti anche tanti agricoltori umbri. Fermare tecnologia dai contorni oscuri, dichiara Agabiti di Coldiretti, in piazza per celebrare l'approvazione della legge che blocca la produzione di alimenti in provetta. Agroalimentari invece, in sei mesi, 13 miliardi di esportazioni. E poi, ancora da Perugia, i nodi del pubblico impiego. Consiglio generale FP CISL, oggi l'elezione del nuovo segretario, alla presenza dei vertici regionali e nazionali. Sanità, priorità assoluta, vanno garantiti i lavoratori, ma anche i servizi al cittadino, sottolinea Luca Talevi, reggente FP della CISL nelle Marche e da tre anni e mezzo anche in Umbria. DEF, dal sostegno all'impresa e al turismo, ecco le priorità per quanto riguarda il documento di economia e finanza della regione. E poi, da Città di Castello, l'analisi dell'ex prefetto e professore dell'Università, Link Tronca, crisi e PNRR, scossa all'innovazione di pubblico e privato. Il punto su imprese, economia e lavoro al convegno sull'Umbria del Nord, che si è tenuta proprio a Città di Castello, con tanti relatori illustri. Sempre più hotel a 5 stelle, ma i turisti spendono poco, tornando alla nazione. In Umbria cresce la ricettività, soprattutto nelle strutture estralberghiere, il settore però produce solo il 2% del PIL, fetta ancora scarsa. Per quanto riguarda l'economia, con i hotel a 5 stelle, che comunque hanno visto un calo, diciamo, negli ultimi tempi. Promozione, Umbria chiama USA, ecco le eccellenze regionali, 24 agenti di viaggio statunitense, i testimonial dell'offerta turistica. Corso Vannucci, assalto alle boutique, scrive il messaggero. In poche ore colpiti almeno tre negozi nel cuore della città. Porte forzate negli orari di chiusura, vestiti e oggetti rubati. Individuato e denunciato dalla polizia un trentenne polacco che aveva appena portato via profumi pregiati. Tra i commercianti gira il video di due uomini che tentano di asportare alcuni prodotti. Espulsa Giugno, ritrovata a spacciare a Fontiveggene i controlli legati alla sicurezza nella zona stazione di Perugia. Minaccia la Melonia, processo presidente di un circolo culturale, lo scrive anche il messaggero. Doping in palestra, in due chiedono lavori socialmente utili per quanto riguarda questa vicenda che riguarda peraltro una famiglia eugubina. E poi prende quattro giornate e attacca su Facebook, arbitri spesso arroganti. Dal calcio alla squalifica per l'attaccante del Ponte Valleceppi, Luca Urbanelli, punito per comportamento irriguardoso, risponde proprio con un post sui social o video che dimostreranno il contrario, dichiara Luca Urbanelli. Veniamo così a Marsciano, passando di fatto ai territori dal messaggero. Proteste per il nuovo assetto degli istituti scolastici. I presidenti dei circoli didattici scrivono a Regione e Comuni il cambiamento potrà interessare fino a 3.500 studenti. Assisi dal Consiglio dei Ragazzi arriva l'idea di un nuovo piano per l'ambiente, parte da cui la proposta. Città di Castello, 200 banchi pronti per le fiere di San Florido con ben 188 commercianti attesi in città. Umbertide, il città di Torino soffocato da burocrazia e incuria per quanto riguarda lo storico impianto da gioco di Umbertide e soprattutto della Tiberis, oggi ricoperto da erbacce. Vogliamo riprenderlo ma non sappiamo se del Comune del Demanio, dichiara il sindaco Carizia. Per quanto riguarda Gubbio, invece, buche in via San Rocco. I residenti mettono l'avvocato, qui proprio un frame della strada di San Rocco piena di buche e si va ora per vie legali. Mentre da Todi, rifiuti e battaglia anche fu la data dell'assemblea di battito aperto, dunque, nella città Tuderte su tale ambito. Da Piegaro, un'equip per salvare i fossili, svolta per il Museo di Pietrafitta. Centinaia di reperti saranno analizzati, catalogati e restaurati. A direttrice Caponi ricostruiremo i resti di altri animali estinti, più personale e formazione in vista. Da Assisi, cinque colpi in quattro giorni. Ladri in azione per cena. Mercoledì, giornata nera a Santa Mere degli Angeli. L'Assemblea della CEI, invece, escalation di violenza di proporzioni tragiche, si è conclusa la settantottesima riunione dei Vescovi. Mentre, vedete tale ambito che venne rimarcato anche dalla Nazione, CEI, la lotta antipedofilia da Assisi, monito del Cardinale Zuppi. Non c'è la prescrizione. Il Presidente, a conclusione dell'Assemblea straordinaria dei Vescovi italiani, dichiara nel 2022 54 vittime di presunti abusi. Non tutte le diocesi hanno collaborato. Più tasse per pagare gli eventi di Natale. In Giusti, invece, da Bastia Umbra, sulle festività, si esprime il Vice Sindaco Fratellini, che vota contro le spese decise dal Comune e spiega la questione. Da Città di Castello, una via intitolata a Nuvolo. In Consiglio Comunale arriva la proposta di ricordare l'artista, Giorgio Ascani, qui in foto, il grande artista di arte contemporanea. Contemporanea, Tifernate, strettissimo il suo legame con Burri. E dunque la proposta è proprio quella di ricordarlo con una via intitolata proprio a Giorgio Ascani, in arte Nuvolo, indimenticato artista di Città di Castello. Per quanto riguarda ancora Città di Castello, E45, sicurezza dei viadotti, i cantieri, previste ancora chiusure notturne, investimenti per 9 milioni e mezzo nel tratto della superstrada tra Città di Castello e Umbertide. E poi, Medici Davvero, premio a tre laureati, riconoscimento nel ricordo della dottoressa Silvia Nanni, iniziativa promossa da donne per la salute. Da Umbertide ancora pronti 76 letti tecnologici, per quanto riguarda l'Istituto Clinico Tiberino, Ex Prosperius, Puletti, Castellari e Mancini della Lega, dichiarano primo step per il piano investimenti. Furti nell'abitazione, anche Umbertide, stretta sui controlli, i carabinieri hanno identificato 82 persone. Andiamo a Gubbio, dal Corriere ancora. Soprintendenza, sì, a intarsi per quanto riguarda il cantiere in Piazza Grande. Ok dagli esperti alla riproduzione degli elementi architettonici sottostanti. Se non ci saranno in top, l'intervento si concluderà a inizio aprile, conferma l'assessore ai lavori pubblici Valerio Piergentili, per quanto riguarda i lavori sulla piazza Pensile di Gubbio, che sono in pieno Iter. Il disegno sarà realizzato all'altezza del loggiato, Ranghiasci davanti al comune, sono previsti incontri periodici con l'Università dei Muratori per seguire appunto i lavori. Intanto successi per mischianti, gaggiotti e bazzucchi, per quanto riguarda l'affogiazione pescatori sportivi Lenza e Ugubina. Colletta alimentare al top a Gualdo Tadino, crescono i punti vendita, sempre più supermercati e negozi di prossimità in prima linea per aiutare chi si trova in difficoltà. Progetto Bulli Stop a Nocera Umbra, iniziativa al Sigismondi contro tutte le violenze e spettacoli in scena all'auditorio Monocerino. Fulla Framini invece, frontale fra auto e furgone, due i feriti, questo avvenuto due notti fa per la precisione. Intanto, ecco i primi passi concreti, la città Pennini ora può diventare realtà, tornando alla nazione e a Gubbio. Dialogo e collaborazione tra Marche e Umbra arrivano a proposte operative dopo il convegno tenuto proprio nella città e Ugubina, con relatori di alto livello su molti temi. Ufficializzati quattro tavoli che si occuperanno del settore primario, quello dello sviluppo imprenditoriale, della cultura, turismo e dei servizi territoriali. Intanto il cuore batte per l'Ucraina, aiuti. All'Orfanotrofio di Mihail Ilka, raccolta di solidarietà del Cassata Gattapone per l'Istituto di Cercasi. Dunque questa iniziativa solidale dal Cassata Gattapone, Istituto Ugubino all'Ucraina. Il libro del gualdese Fazio Maggi, invece, a Sabrina Passeri, Semi di Chida, espirato e dedicato alla volontaria. Mentre gli educatori a scuola e vanno in scena di ritta, la Lighieri, spettacoli contro bulli e violenza di genere. Gualdo Cattaneo, Tordi per il mercato nero, nei guai un quarantenne perugino. L'uomo trasportava 370 esemplari destinati al commercio illegale. Questo, mentre da Foligno, Yoang Jez si rinnova a tristi appuntamenti da domani all'Epifania. All'Epifania la rassegna partirà dallo Zut, con i Dead Eye, per quanto riguarda la Kermes Folignate. Intanto, sicurezza informatica, dall'Istituto da Vinci al Podio Internazionale. Laura Peppoloni ha portato la squadra italiana al secondo posto della più importante competizione di hacking per studenti tra i 15 e i 24 anni che si è svolta in Estonia. Da Spoleto, il caso del gatto sparito, indagate moglie e figlia di Frassica. Fascicolo in procura per stalking, dopo le accuse alla vicina per Iro, sequestrato il sasso lanciato contro la donna, nella denuncia anche diversi video. La questione luminaria, che tiene banco sempre a Spoleto, con commercio boccia, di fatti il progetto del comune, ed è polemica. Ancora, caosso scuole e tutto in alto mare. Passi indietro sui moduli, si valuta l'affitto dell'immobile di via dei filosofi. Da Terni, invece, banda degli incensurati, sempre sul messaggero. A casa della madre nasconde un chilo di coca. Nuovo arresto legato a quello del cuoco, sorpreso con due chili e mezzo, sempre di sostanze stupefacenti. Il giovane vive a Roma, ma si appoggia a casa della mamma, a San Giovanni, dunque a Terni. Ancora, ladri di oro verde ripuliscono i frantoi, furti a raffi che il sospetto del mercato nero arriva da Narni. Tale notizia di cronaca. Mentre per il teatro Verdi, nominata l'archeologa responsabile del team di sondaggi, dunque, per quanto riguarda anche tale ITER. Veniamo così ancora dalle pagine del Corriere a Terni, permessi dagli artigiani. Gli operatori che dovranno entrare nella zona traffico limitata avranno 72 ore di tempo per comunicarlo. Il taglio non va a svantaggio di imprese e lavoratori, ma a favore della città. Di carico, il presidente di Confartigianato Imprese Eterni, Mauro Franceschini. Veniamo così a Narni, vedete anche qui rubato oli in due frantoi, parte la denuncia dei titolari, tante le tracce lasciate dai malviventi, indagini dai carabinieri in corso. Per quanto riguarda, invece, Orvieto, Cappella Chiesa degli Scalzi, via i lavori per 110 mila euro. La spesa sarà coperta da fondi della diocese e in parte della parrocchia guidata da Don Luca, per quanto riguarda il cimitero monumentale orvietano. Veniamo così al tempo libero, sempre sulla nazione, svolte in musica tutte le novità di Young Jets, la rassegna di Foligno che si rinnova. Kasia Smudniak, la nota attrice, sarà la star del Terni Film Festival, dove presenterà il suo documentario Mur. E poi, ancora, da Città di Castello, è sempre domenica, a Città di Castellecorciano. Stasera gli Illuminati, domani inaugura la stagione, invece, della filarmonica, lo spettacolo. Per il calcio, invece, si va sul quest, inserto della nazione, Perugia, Baldini si affida ancora, Morichelli in difesa, in attacco Vasquez, si è meritato la conferma. Il capitano Angella potrebbe dare forfè, anche contro il Pineto, si gioca domani in terra bruzzese, va all'ottaggio sulle fasce, cancellieri e mezzoni partono in vantaggio. Il Pineto festeggia, intanto, la prima in casa, la brigata, non andrà tutti o nessuno. Fa discutere la capienza ridotta dell'impianto, 1.500 persone, soprattutto quella per gli ospiti, 200 posti per la prima volta nel suo stadio, il Pineto, dopo aver giocato finora all'Adriatico, dopo che sono conclusi i lavori di ammodernamento. Ternane, tempo di scelte, Breda studia la formazione, da questa mattina all'antistadio, tornano gli allenamenti a porte chiuse, nonostante la sosta del campionato, c'è la soluzione, intanto, per l'addio di Ramos. Serie C, Gubbio, domenica contro il Sestri Levante, servono i tifosi, rosso-blu ancora imbattuti al Barbetti, occasione per risalire. Veniamo così proprio al Gubbio, gioco la tripla dalle pagine del Corriere, l'ex raggio Garibaldi torna per la seconda volta ad avversario al Barbetti, il centrocampista di Chiavari ora è al Sestri Levante, so che il derby perso ha fatto male, dichiara il 34enne, qui con la maglia numero 10, proprio nell'anno in Serie B, oggi gioca per il Sestri Levante, ieri uscito sconfitto, come detto, dal campo di Rimini nell'infrasettimanale. Per quanto riguarda ancora i dilettanti, le eccellenze, l'ora del Città di Castello, Peluso carica e biancorossi prima della sfida al vertice con la capolista, la sfida importante con la capolista Foligno, recuperiamo il momento, è quello della verità, dichiara il club. Foligno mi emoziona, i loro big, une e petterini, parlando anche della dirigenza, ricorda così anche i suoi tempi, al falco Peluso. Intanto, per quanto riguarda la Superlega, invece, si regare così, ti servono le parole del palleggiatore Giannelli, utile trovare un rivale che sta tornando su, reazione nel quarto setto, Keila. Susa Vim è tornata a Perugia per preparare la sfida contro Piacenza dell'ex Anastasi, dopo la vittoria con Taranto nell'infrasettimanale. Questo dunque per chiudere questo appuntamento con prima pagina, ora ci fermiamo per la pubblicità e poi torniamo con TG Mattina.